Ciao a tutti... No, è un giorno brutto. Non la faccio l'intro. Perché? Cosa hai fatto? Mi siano degli occhiali da lutto, mi servo. Mi servo. Ah no. Occhiali da lutto. Ecco, telecom... Preparati. È un giorno triste. Eh, ui. È un giorno triste. Perché è triste? Perché portiamo fortemente? Esatto. Non siamo troppo grandi? Esatto. Allora mi tocca trasformarmi. Prondo! È ancora qui, Senior Light? Sì, sì, ci sono. Aspetti. Aspetti che non vedo una sega con questo. Buongiorno. Quindi mi devi insegnare a giocare forte. Va bene. Ok. Ciao a tutti i signori, bentornati in questo nuovissimo video. Quello lo dovrei tenere io. Vabbè vado senza musica perché tanto io sono... Dove devo cliccare? Allora, devi cliccare su... Salva il mondo. No, mafaglia reale. Ma io voglio salvare il mondo. Sì, ma noi dobbiamo giocare a battaglia reale, signore. Che fastidio. Sì? Che fastidio. Allora, devi iniziare. Deve... Gioca! Sì, no. Rissa squadre. Cosa vuol dire rissa squadre? Deve scegliere la modalità. Vuoi giocare da solo o in compagnia? No, no, da solo. Che poi io odio la gente. Ok. Che chita sto... Gioca! Perché P? Allo stesso pronto. Gioca? Va bene. Non posso? Sì. Eh, pronto. Allora, aspetti che mi calibro. Mi calibro. Sai i tasti di gioco, vero? No. Neanche uno. Allora. Con la W ci si muove. Vabbè, grazie al cazzo. Quelli li conosco, sono uguali a dappertutto. Allora, qui l'ho selezionato io e là c'è scritto come si costruisce. Come si costruisce? Ma io sparo, non mi costruisco. Sì, ma per sopravvivere si deve costruire un riparo. Quindi mi faccio la mia casetta. È Minecraft, faccio la mia casetta e sto lì. Sì, solo che ci sono molti meno pixel. Ah, o più pixel. Meno. Più pixel. Adesso provo intanto che... Ok. Allora, si deve spaccare i materiali. Spacco la testa questo. Vieni qui. No, no, no. Ecco allora. Qui siamo nella lobby per partita. Vieni. E non si possono infliggere danni ai giocatori. Es. Ti spacco la testa. E invece sì, guarda. Vedi i numerini che salgo. Sì, ma non muoio. Eh. Ok, basta. Vado a fare mincazzi meno. Ah, no, è vero. No, ma hai invertito. Deve prendere i materiali. Aspetti. Pronto? Come ci si lancia? Allora, sembra un po' strano, ma adesso deve saltare giù da un pulmino con una bucchiera. No, questo è facile. Questo è facile perché Fortnite... Allora, in Milancia dove non c'è nessuno. Ho sbagliato. Ecco, lì invece c'è qualcuno. Come faccio ad aprire il paracadute? Si apre automaticamente appena si arriva. Appena c'è tempo. Allora, in Milancia quella casetta là. Ma no, io volevo prendere la casetta. Io sono abituato ad Aprix Legends. Sì, qui non ci sono molte leggende a parte Ninja. A parte Ninja non è una leggenda, è solo brutta. Eeeh, questo non c'è. Quello non si può restare. Posso rompere. Eh no, c'è una mia sua testa si può rompere, scappi! Come vede sono bravo. 92esimo non sono stato il primo a morire. Abbandoni. Allora, adesso dobbiamo usare un'altra tattica. Scappare. No, la tattica migliore è dire funny moments. Spero dirlo soltanto una volta. Dopo che si è detto una volta, vincerà tutte le partite. Ne sono sicuro. Quindi se lo ridico è finita. Eh? Quindi se lo dico di nuovo è finita. Sì, allora prima... Funny moments! Non lo deve ridire. Funny moments! Ah! È finita. Sì, è finita. Posso perdere tranquillo. Cioè, così è perché ho detto questa cosa. non perché sono una pippa mostruosa. Potrebbe essere anche in quel caso. Però non siamo certi. Ok, sono di nuovo. Allora, corri. Vuole cuffie? Così almeno senti quando viene. E raccogli. Poi come si spara? Così? Quale cuffie? Perché si china il bastardo? Vuole cuffie? Come si corre? Ah, no, ma è invertito. Io sono abituato a mine. Provo il pompa. Amico? Ah, ok. Così si mira. Eh, amica. Ehi, ehi. Aspetta, stavolta mi lancio in un punto dove non c'è nessuno però. Per sistemarsi le armi, deve cliccare la I con cui seleziona il proprio inventario. Spazio, sa che cos'è lo spazio? Cioè, il tasto più grande di tutti? No, non ne sono sicuro. Non vada nel deserto in mezzo agli arabi che poi ci rapirano. Eh, penso sia vagamente razzista questa cosa che ho appena detto. Dritto per... E qui, qui, dove c'è il pallino bianco è un punto bello. Vero? No, è un sosse. No. Questo è un punto troppo bello. Troppo bello. Eh, lì, lì è bello. Sì, c'è un piccolo problema. Cioè, c'è persone a posto. Non è più un punto bello. Ci sono persone. Vuole le cuffie? No, tanto non serve a niente. Mi sento via. Le dico se arrivano degli nemici. Arrivano per favore. Questa casa mi piace. Salve casa. Pronto? No, questo è per chinarsi. Corri. Corri. Il falò non lo devo accendere. Questa cosa la sova. Oddio, ho trovato la prima sua scelta, signore. La prima scelta. Dammi le cose. Questo come lo bevo? Allora, devi cliccare il tasto sinistro stando fermo. Ok? Ok. Non è un succo di frutta alla pera dell'Hemfood. Un succo su cosa? Rompiamo le cose, bellissimo. Mi piace rompere le cose. Che bella. È la parte più bella di sto gioco. Io lo farei solo qui. Dammi il... Ok. Ora ti alleno a costruire. Non voglio allenarmi a costruire. Prova, clicca la Q. Q, Q. Aspetti che prima rompo le cose. Perché ho visto da quelli bravi che si fanno. Allora, ok. A parte il fatto che devo invertire il tanto. Ok, ora che abbiamo distrutto il mobilio, clicchi la Q una volta. Accendi il fuoco. No, non serve. Non ora. Rompo la macchina. Va bene. Sa che se clicca il pallino blu la rompe molto più velocemente? Provi con un albero. Qual è il pallino blu? Fermi, quello là. Blu. L'ho clicca più velocemente e da più un'arietta reale. Corro. Allora, ecco. Una... Sassu. Tattica è non rompere tutto. Lo so, non rompere tutto l'albero. Perché così rimane l'albero e non mi vedono. Non vedo la vita dell'albero. Ok. Un'altra volta? No. Ok, posto. Ora si è rotto. Allora, Q. E no. Z. Questo è 1 e 2. Ok, salta! Di nuovo la Q e se ne svanisce. Q. Posto. Posso correre tra qui? No, corri. Allora. Salendo la scala, puo trovare qualcosa. Cose? Salve cose. Non c'è un ca. Posto ho trovato casa mia. Questa è una mia valigia. Cosa ci faccio la poltrona sopra questa specie di casa sull'albero? Non si sa. Perché? Non mi sono fatta lì. Ah, no. Cos'è quello? Allora, ehm... C'è gente! C'è gente! Ecco, sì, sì. Penso che abbia capito come si sparano. Prondo. Con un tasto. Non vedo niente. L'unica differenza da Minecraft penso che sia la grafica. Preso. Ah, che botta! Corri! Corri, amico mio! Clicchi la C per farsi un riparo. Non voglio farmi un riparo, tanto non posso curarmi, quindi devo correre! Si fa un riparo per proteggersi dagli altri. Così cecchina o meglio. Scappo di là. Ma qui c'è la mia sinistra, c'è un pacchetto da Amazon, c'è scritto che c'è un pacchetto e io vado al pacchetto. Pacchetto! Eh, sì, forse la penso che troverà pure più di una persona, penso. Io non vedo nessuno. Dov'è il pacchetto? Qui sotto c'è un pacchetto. È una mungolfiera. Non c'è nessuno. Devo... Io so in questi casi che... Aspetti. Eh, sono bravissimi. Eh, 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 eh. Poi... Eh, fatto! Poi, Q, E. Eeeh! Ho trovato cose importanti. Questa è bellissima. Allora... Sì, è molto utile qualcosa. Sì, è molto utile. Ok, ottimo. Allora, prende il materiale. Questo... Allora, questo... E adesso, veda cosa ha quella specie di obbrobrio gigante rotondo, quello lì. Eeeh! Posso fare cose? Spazio! No, la safe di qua. Il trucco era un altro, però. Il trucco era un altro. Vabbè. Eh, perché vado a me si posso? Ok. Salire. E poi? E poi sono morto. Stiamo facendo una missione. Là c'è una persona. Ecco, là c'è una persona che io direi che non è molto simpatica. Gli sparo? Sì. Allora è ovvio. Magari con un cecchino? Eh, ma sono... Sono di fianco. Ma qui di fianco no. Ecco, così. Interessante. E non... E non... Sì. Sta subendo danni il nemico. Vede uno. Vedo dov'è. Ok, è volato via. Le consiglio di tirare fuori un po'. Preso. Uh, è il shot. Ti consiglio di tirare fuori un po' se viene vicino a te. No. Si sta andando a culo. In culonia. Per la prima partita... Seconda. Decimo. Sono bravissimo. Ah, ah, ah. Sono vagamente morto. Top 10. Eeeh. Vediamo se mi so fare di meglio. Chi? Io. Gidati. Mi insegni maestro. La cittina è la pista dei motorini. Dov'è, dov'è, dov'è? Qua a destra. Ah no, quella lì per i nabbi. È una pista per i motorini. Per i motorini no? Sì, non sei mai andato a fare i giri con i bloccati. Porca miseria, ma che generazione di... Non si può dire. Da moche ce l'hanno delle scritte. Sei morto. Mi insegni maestro. Bene signori, se questo video vi è piaciuto mettete un like. Mettete un like. Lui. Cioè non lui, lui in realtà è quello piccolo. Poi salutare. Ciao. Saluta gli amici di Anikis General del tubo che non giocano a Fortnite ma probabilmente guarderanno questo video quelli che non fanno, che non ci seguono. Quindi voi iscrivetevi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.